Alberto Alberico De Cecco, vincitore della Marcia dei Misteri una soddisfazione in più, correre poi davanti a tutta questa bella gente ma decisamente è una bellissima manifestazione ne avevo sentito parlare anche negli anni scorsi e oggi ero curioso di venire a conoscerla ed è stata veramente molto molto bella faccio i complimenti un po' a tutta l'organizzazione mi fa piacere quando anche le istituzioni come sindaco, vicesindaco, assessori scendono in campo perché lo sport è un messaggio di vita e lo sport è per tu, uguale per tutti per te possiamo dire che è stata quasi una passeggiata scherziamo, meno di 30 minuti se non sbaglio sì, 29 minuti e 44 secondi diciamo che siamo partiti decisi perché c'era il mio compagno di viaggio compagno di una vita, Ivan Di Mario che l'ha buttata subito giù dura per i primi 4 chilometri abbiamo corso veramente forte nella prima parte che addirittura sale poi Ivan ha perso un pochettino contatto ha avuto qualche problema mi hanno riferito che si era quasi fermato e sono arrivato un po' più tranquillo posso dire me la sono goduta fino alla fine veramente bello bellissimo il passaggio dentro a campo basso che veramente ogni angolo era siepato di persone Alberico, vuoi fare un invito ai giovani specialmente ad avvicinarsi all'atletica perché non sono i tipici sport di squadra come calcio basket, balla a volo si corre liberamente, si sta bene con se stesso ma devo dire l'invito è un invito per modo di dire ma io obbligherei proprio i giovani buonariamente a fare sport l'invito lo faccio ai genitori che sono coloro che possono veramente dare il miglior consiglio perché lo sport non fa bene solo al fisico lo sport fondamentalmente fa bene alla mente fa imparare a programmare fa imparare a sognare soprattutto questi ragazzi che oggi hanno tutto a portata di mano non hanno più sogni, non hanno più obiettivi e invece con lo sport è la migliore palestra di vita l'ultima cosa, obiettivi personali e programmi futuri poi ovviamente quest'anno ho corso 3,50 km le ho vinte tutte e tre e mi sono confermato ancora a 45 anni il miglior cinquantista europeo e ho un piccolo sogno nel cassetto per un'ultima 50 km che c'è a Roma il 6 ottobre la sto mettendo a punto spero di poterci essere e poi voglio chiudere in bellezza però lì da organizzatore il 20 ottobre a Pescara con la maratona, mezza maratona della mia città che sono i luoghi in cui atleticamente sono nato e cresciuto grazie a tutti